Ok signori, un bel ritrovati, sempre un qui che vi parla, quest'oggi è giovedì, quindi sconti e soldi doppi! Ta-na-na-na-na-na-na-na, nonché la giornata del Gamescom 2020. Ok, andiamo avanti. Allora, veicolo sul podo PR4. Yeee! Soldi tripli su gare e ruote scoperte, qualcuno sarà felice. Abbiamo soldi doppi su... Incarichi del boss e... Le missioni dell'MC, quindi quelle che facciamo dal... Dalla sala riunioni dell'MC, per intenderci, ok? Abbiamo il 40% di sconto su Clubhouse e business dell'MC. 40% sugli uffici CEO, i garage non sono in sconto, quelli del CEO. 30% sulle personalizzazioni dell'ufficio, ok? Abbiamo il 40% sulla Drift Tampa, Hotlink Sabre, Drift Yosemite, 35% sull'R88, e questi sono gli sconti nuovi. Continuano gli sconti del 50% di settimana scorsa, su macchine che non so quanta gente si sia comprato. Torero, Swinger, Savestra, 190Z, Sterling GT, Rapid GT, Mamba, Infernus Classic, Z-Type e Viserys. Ok? Molto semplice. Allora, se non avete il CEO compratelo, è importante, serve sempre. Se non avete Clubhouse e business MC comprateli. Vi spiego qual è il... Allora, il miglior modo per far soldi questa settimana tra i soldi qua presenti, cioè per cominciare io farei gare, ok? Gare Formula 1, oppure se volete stare tranquilli senza fare attività, vi chiudete tranquillamente a fare business, scusatemi, missioni dell'MC, quindi vi comprate la Clubhouse per 200.000 dollari, ok? E se invece avete il CEO o comprate prima il CEO, vi fate i lavori... Scusate, se avete il CEO o avete 50.000 dollari sul conto, diventate boss, boss, ok? Non c'è bisogno di essere per forza ceo, vi fate gli incarichi del boss e siete di base a posto. Pagano bene gli incarichi del boss, quindi soprattutto spacca test, cacciatore di test e altri pagano fino a 40.000 dollari, quelle dell'MC pagano bene o male tra i 20.000 e i 30.000 dollari al massimo. Comunque va bene per cominciare, insomma. Se dovete prendere dei business dell'MC, lo sapete che siete all'inizio, non ha migliorie, quindi non potete comprare le scorte, dovete rubarle. Io prenderei questi business solo se avete il NetClub o se pensate di prendere il NetClub breve, in modo che vi comprate questi business in saldo, non prendeteli a Paleto Bay, mi raccomando. Casomai fuori in zona Grand Senora Desert, se potete prenderli in città, meglio, ok? E niente, prendete questi business e li attaccate al NetClub. Questo è l'unico modo in cui dovreste usarli. Se invece li prendete per far soldi, sappiate che dovete fare le scorte, rubarle, insomma, ci vuole un po' di tempo. Quindi il mio consiglio sarebbe comprateli e poi se avete subito i soldi, fate subito le migliorie, tranne quella della sicurezza, e cercate di fare soldi così. Altre cose da dire, sì, incarichi del boss e missioni del motorcycle le potete fare in missione a inviti, amici, crew, eccetera. Non siete obbligati a stare online, quindi se avete degli amici e non avete la sala giochi, state lì online, fate insieme le missioni, tanto guadagnate tutti la stessa roba di base. E niente, ovviamente se avete la sala giochi fate colpi, perché in un'ora e mezza tra preparazione e colpo guadagnate molto di più rispetto a fare tutta sta roba. Però se avete dei soldi che vi crescono, quant'altro, compratevi business, mettetevi al net club, eccetera. Mancano alla fine tre mesi e qualche settimana al DLC, molto probabilmente. Ho fatto il conto stamattina, mi sembra sia tipo 108 giorni per intenderci. Quindi se vi fate un milione al giorno a botte di colpi, fate finta che giocate solo un'ora, due ore al giorno, vi sparate, ok? Vi sparate un colpo al giorno, un milioncino con i vostri amici, fate magari 600 mila dollari, 700 mila dollari, se magari non siete fortunati col colpo. Comunque si migliora, in 108 giorni si può migliorare. Diciamo che potete fare tra i 50 milioni e i 100, e passa 108 milioni, giocando tutti i giorni, una, due retta al giorno. Quindi questo è... Cominciate a mettere da parte i soldi per il DLC. Se giocate da grinder, fanculo all'R88, PR4, Aldiautis, starebbe qua. Focussatevi sul nuovo DLC. Lì c'è la carne vera, la ciccia vera, quella nuova interessante. Stava qua, serve solo per farvi spendere tempo e soldi inutilmente. Quindi da Reno, per questo video, è veramente tutto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Domani dovrebbe esserci la live domani sera, su YouTube. La mattina, lo sapete, sono sempre su Twitch, giocare a Fall Guys, per ora riprenderò anche GTA. E nada, io vi ringrazio, alla prossima, 3, 2, 1, taloa! Alla prossima! Grazie a tutti.